Ciao, oggi parleremo del time in the market, ovvero il tempo che spendiamo a mercato ma soprattutto cercheremo di capire perché nonostante questo nome inglese altisonante il time in the market è fondamentale per chi si occupa di investimenti non è una questione solamente relegata agli smanettoni che fanno i trading system ma è davvero una nozione fondamentale da conoscere e da poter padroneggiare anche per chi si trova ad investire il proprio patrimonio personale insomma per chi si occupa di normali investimenti siano essi in azioni, in etf o in fondi non importa, dobbiamo conoscere il time in the market ma prima facciamo un passo indietro parliamo un attimino della storia del time in the market perché nasce il time in the market perché è così importante per i trading system soprattutto il time in the market è una delle metriche che si studia quando si scrivono dei trading system ovvero dei sistemi di investimento automatici i sistemi di investimento automatici chiamati trading system nascono perché quando noi vogliamo investire i nostri soldi su un asset finanziario noi abbiamo due possibilità possiamo fare il classico buy and hold, il compra e tieni, il cassettista alla Warren Buffett e quindi andremo a subire tutte le varie oscillazioni del mercato incuranti più o meno insomma faremo quello che faremo però ad un certo punto poi si è pensato forse è meglio tagliare le perdite e lasciar correre i profitti come si dice quindi anche grazie all'avvento dei computer sono iniziati, tutti quanti abbiamo iniziato a studiare i vari trading system ecco da quando però abbiamo iniziato a costruire i trading system il time in the market è andato sempre di più accorciandosi addirittura adesso è di moda anche il famoso high frequency trading ovvero quei computer che comprano e vendono a mitraglia tante tante volte durante la giornata addirittura basandosi su dei time frame di 5 minuti, di un minuto ci sono addirittura dei trading system basati sul time frame a tick che è la misura più piccola che esiste dei time frame quindi potete pensare un trading system basato sul tick quante centinaia di operazioni può fare all'interno di una giornata ebbene perché durante il corso degli anni si è cercato di accorciare sempre di più questo time frame questo time in the market, questo tempo speso mercato perché così facendo si ha la convinzione di abbassare la rischiosità del rimanere a mercato soprattutto per quelli come noi che hanno già una certa età, hanno già la barba bianca che sono, chiamiamoli dei sopravvissuti delle torri gemelle tutti quanti noi abbiamo vissuto l'esperienza tremenda di essere a mercato magari anche esposti con dei future e risvegliarsi al mattino dopo aver dormito i nostri sogni tranquilli risvegliarsi al mattino e sentire la telefonata della banca che ci richiede di ripianare il conto margini perché le posizioni sono tutte drammaticamente in rosso perché è successo un qualcosa durante la notte di imponderabile, totalmente qualcosa di esogeno del mercato che è andato a creare il classico disastro finanziario allora da lì si è iniziato a pensare accorciamo sempre di più questo time in the market e chiudiamo le posizioni prima della chiusura notturna in modo da non essere a mercato durante la notte e andare così a ridurre sempre di più la rischiosità dell'essere a mercato molto bene adesso per spiegarti l'importanza del time in the market e del perché poi verrà traslato anche lo stesso concetto negli investimenti farò un esempio con un titolo azionario italiano ERA e andrò ad applicare su questo titolo un trading system scritto da me di mia invenzione tra l'altro un trading system che continua a produrre utili ancora dopo tanti anni è un trading system che entra a mercato con determinate logiche che non sto qui a spiegare e che basato proprio su questo concetto che ho appena descritto adesso chiude le posizioni tutte le sere in chiusura di mercato ok? bene perché non volevo avere il rischio di rimanere a mercato il time in the market va a braccetto con l'average trade ovvero con la capienza del trade e anche solamente l'apertura del giorno dopo che può essere un po' più in alto o un po' più in basso già solamente quella capisci bene che se è un po' più in alto se io ho una capienza di trade cioè l'ampiezza del mio guadagno se è già risicata se apre un po' più in alto il giorno dopo io ho sicuramente un vantaggio ma se poi apre un po' più in basso io vado a perdere tutto quello che ho guadagnato durante la mia giornata quindi se la mia giornata è stata una candela verde una candela positiva io la voglio comunque chiudere in positivo non voglio avere il rischio il giorno dopo di non sapere come apre bene quindi questo è un trading system che opera quasi tutti i giorni e fa veramente durante l'anno una miriade di operazioni per quello che è un sistema estremamente delicato andiamo a vederlo bene questo è il nostro titolo era adesso io andrò ad applicare il nostro sistema bene come vedete c'è veramente una miriade di operazioni applicate è inutile andarle ad esaminare una a una possiamo eventualmente anche fare uno zoom per andare a vedere davvero quante operazioni questo trading system fa durante quasi tutte le giornate e vediamo come molto spesso sono delle operazioni anche molto positive guardate questa ha aperto qui e ha chiuso sui massimi e anche questa insomma tante tante volte chiude davvero delle operazioni che sono incredibili veramente molto molto belle peccato che non è entrato qua perché non c'erano i parametri necessari ebbene però comunque si creano queste tantissime operazioni che sono un po' il sogno di tutti i trader andiamo a vedere quello che è il risultato però del sistema andiamo a fare il nostro system report guardiamo la equity line e vediamo una equity line insomma davvero davvero interessante siamo partiti da 10.000 siamo arrivati a 45.000 nonostante abbia rallentato un pochettino il suo ritmo di crescita negli ultimi anni però insomma continua ad essere un trading system che produce davvero tanti tanti utili ebbene fino a qua uno potrebbe dire ma qual è il problema? allora andiamo anche ad analizzare il total trade analysis quindi è un trading system che fa 1800 operazioni all'anno il time analysis quindi il percent in the market per lui è addirittura lo 0% quindi su 19 anni a mercato lui dice di non esserci mai stato ma in realtà è semplicemente perché se non si chiude mai una giornata a mercato lui considera poco o lo considera come nullo quindi abbiamo fatto un caso chiamiamolo abbastanza estremo dove il time in the market addirittura sfiora lo 0% in realtà sono perché sono tutti degli intraday ecco adesso dobbiamo introdurre un nuovo parametro fondamentale che è quello dei costi di negoziazioni perché sono direttamente perché rischiano di influenzare direttamente il nostro utile perché se io faccio centinaia di operazioni all'anno e ho un utile molto piccolo da queste piccole operazioni che faccio io devo anche andare a negoziare dei costi di negoziazione con la banca che devono essere forzatamente molto molto bassi perché se io ipotizzo di pagare non so anche solo 5 euro o qualcuno addirittura ne paga 19 per comprare 19 per uscire capite che se io non ho un utile che è almeno superiore ai 40 euro per forza vado in perdita sicuramente la banca ci guadagnerà da queste 100 operazioni ma lei è l'unica che sicuramente ci guadagnerà io ci guadagnerò solo se inizierò a produrre degli utili superiore ai 40 euro insomma questo è fondamentale ecco adesso andiamo a vedere come i costi di negoziazione incidono su questo tipo di trading system se io vado a vedere come ho impostato il nostro sistema non ho messo nessuna commissione ora noi ipotizziamo di mettere anche solamente 5 euro o 5 dollari non importa, fissi per trade che non è tanto considerato che alcuni lettori di rendimento fondi alcune banche fanno pagare comunque i classici 10 euro, 19 euro insomma 5 davvero non è tanto ipotizziamo anche di mettere uno slippage di 10 euro che cos'è lo slippage? allora quando io faccio così tante operazioni mi trovo forzatamente a dovermi confrontare con il book di negoziazione perché quando io imposto un sistema, un trading system così sulla carta a livello informatico se io imposto un ingresso a 10 il sistema informatico entrerà a 10 che quel prezzo esista o che quel prezzo non esista non importa, lui entra a 10, attenzione ma se io che sono invece un umano che mi trovo poi a dover replicare veramente questi segnali se io ho un ingresso a 10 ma quando apro il book di negoziazione vedo da una parte una proposta a 9,80 dall'altra parte una proposta a 10,1 allora io devo decidere cosa fare io ho due strade posso mettermi a 10 come dice il mio sistema quindi mi metto a metà con il rischio però di non essere eseguito magari da lì in poi il prezzo inizia a salire io rimango a 10, non vengo mai eseguito e quindi perdo quel trade magari quel trade è uno di quelli che fa 100 euro in un giorno e io l'ho perso allora se voglio rimanere più attinente al trading system devo comprare forzatamente quindi andrò a comprare forzatamente a 10,1 e quindi quello è lo slippage ovvero quanto io perdo, no? quel piccolo pezzettino che perdo nel comprare peggio rispetto a quello che il sistema fa sulla carta bene, io ho impostato 10 euro 10 euro che su un capitale di 10.000 sono veramente poco, no? ipotizziamo di entrare male per 10 euro quando io entro quindi vado ad applicare queste mie variazioni al sistema e magicamente mi trovo con un sistema che da vincente diventa un sistema perdente guardate come cambia radicalmente la equity line del sistema diventa addirittura un sistema che prima guadagnava adesso perde soldi quindi in buona sostanza questa è la storia del time in the market e anche l'importanza del time in the market quindi perché il time in the market ad esempio sì, è un parametro che può valutare gli investimenti ma che deve essere valutato insieme alla capienza dell'investimento e insieme anche alle spese bancarie perché più si accorcia il tempo che rimaniamo mercato e più le spese bancarie ovviamente incidono sul nostro investimento andiamo a vedere se però è possibile una via di mezzo e lo facciamo utilizzando il sito rendimentofondi.it quindi sul sito rendimentofondi.it vediamo il nostro titolo era quindi lo stesso titolo come abbiamo detto in fase iniziale noi abbiamo due possibilità per investire su questo titolo noi possiamo, togliamo un attimino i segnali noi possiamo fare il classico compra e tieni alla Warren Buffett da cassettista ora però non tutti i titoli sono come Apple che magari per 10-20 anni salgono sempre noi possiamo benissimo sempre incappare su un titolo magari come Apple ma entrare nel momento sbagliato oppure possiamo entrare incappare senza saperlo, senza volerlo su un titolo come questo ad esempio che ovviamente il compra e tieni avrebbe sì prodotto un utile ma innanzitutto io entrando qua avrei dovuto sopportare sarei entrato nel 2003 avrei dovuto sopportare nel 2009 di essere in perdita poi nel 2013 nuovamente in perdita poi avrei iniziato la mia fase di guadagno e poi adesso mi trovo nel 2023 ad avere gli stessi prezzi del 2007 quindi oggi il mio patrimonio se io non so mai quando devo entrare, quando devo uscire oggi il mio patrimonio sarebbe il medesimo del 2007 l'importanza di entrare e uscire non è quella di fare di più del mercato ma è quella di limitare il rischio del mercato bene, allora andiamo a vedere come si sarebbe comportato un sistema come il Trendycator ad esempio che è basato di default su candele settimanali quindi su un time frame weekly ma volendo il lettore di rendimento fondi può applicarlo anche sul daily se vuole offre degli ingressi che come vediamo ad esempio in questo caso siamo entrati nel 2013, siamo usciti nel 2017 quindi è un sistema trend following che è in grado di mantenere il trade, l'ingresso per più tempo fin tanto che la forza sul titolo rimane e poi quando la forza sul titolo scompare come qua si esce dal mercato quindi questo è un po' un tipo di sistema che si pone a metà tra il sistema estremizzato di entrare e uscire tutti i giorni e il compra e tieni quindi noi abbiamo cercato di creare un sistema che andasse a limitare le escursioni del mercato mettendosi a metà vediamo quanto e come avrebbe guadagnato il sistema e quindi facciamo la stessa rappresentazione di prima della nostra equity line allora innanzitutto notiamo come da 10.000 il guadagno finale è di 25.630 quindi il nostro capitale pur con alcune oscillazioni intermedie avrebbe nel corso degli anni invece di ritrovarsi ad avere lo stesso capitale come nel 2007 noi avremmo comunque prodotto un utile pari al 150% del nostro capitale all'interno di questi anni pur dovendo sopportare anche alcuni drawdown esistono il trend indicator non è un sistema infallibile non è un sistema che guadagna sempre ok ora però il lettore dopo aver sentito questo video potrebbe dire ah però questa equity line tiene conto delle spese bancarie o no? ora la risposta è no ovviamente questa equity line non tiene conto delle spese bancarie per due motivi il primo è perché noi non possiamo sapere le spese bancarie di tutti quanti il lettore c'è chi ha negoziato un euro e c'è chi ne spende 19 quindi non avremmo mai potuto inserirle e il secondo motivo per cui non le inseriamo è perché con un time frame weekly quindi con un tipo di investimento da noi così pensato sono del tutto ininfluenti guardiamo ad esempio la prima operazione nella prima operazione noi partiamo da 10.000 e chiudiamo la prima operazione a 13.862 ok quindi abbiamo avuto un utile del 38% quindi adesso io ti chiedo con un utile in una singola operazione del 38% cambia qualcosa se tu paghi 3 euro 5 euro 10 euro di commissioni cambia qualcosa se io ti offro il segnale d'ingresso al venerdì e tu entri al martedì una volta guadagnando 20-30 euro di più una volta guadagnando 50 euro in meno cambia qualcosa quando tu hai comunque un utile del 38% la risposta è no ed è per quello che noi non teniamo conto delle spese bancarie e questa è anche la spiegazione del perché il time frame troppo piccolo è pericoloso il time frame inesistente quindi il buy and hold può essere anch'esso pericoloso perché anche un titolo magnifico come Amazon come Apple in questi periodi sta crollando e quindi un ingresso fatto male ci può far perdere dei soldi anche con un titolo veramente magnifico e quindi un time frame che si pone a metà fra il buy and hold estremo da una parte il time frame time in the market daily quindi estremo dall'altra un qualcosa che si frappone a metà secondo noi di rendimento fondi è una strategia efficace per investire i propri risparmi senza essere troppo veloci oltretutto anche abbassare il time in the market quindi creare questi investimenti che sono di un mese, di due mesi, di sei mesi ci dà anche la possibilità di fare il nostro lavoro senza avere l'assillo di guardare ogni giorno il telefonino e vedere l'azione come va perché sappiamo che sono degli investimenti pensati sul medio periodo quindi così facendo ci si pone a metà e si va ad annullare quelle che sono le distorsioni e le pericolosità di entrambi i sistemi entrambi gli estremi bene, spero di averti dato dei consigli utili per i tuoi investimenti quindi se così è stato puoi commentare il video e magari mettere anche un like ci vediamo al prossimo video su rendimentofondi.it